buon pomeriggio oggi dovevo ancora trovare il tempo di di fare un una direttina di parlare con voi a parte un post questa mattina per salutare un amico che che ci ha lasciati che mi dispiace molto però non ho più trovato il tempo di pubblicare nulla e ho trovato adesso due minuti per per far vedere quello che è successo sulla set è una trasmissione che è stata molto intensa l'altra sera dove pregliasco dove pregliasco insieme a giletti hanno trovato il tempo di di distruggere una canzone natalizia tu scendi dalle stelle rovinandola rovinandola per me è un per me è una vergogna la vergogna andare a distruggere un brano cattolico un brano cristiano natalizio sacro perché di fatto parla di di parla di cristianità e basta e e andare a storpiare in questo modo per per i loro solite le loro solite campagne mediatiche questa questo tentativo di convincere più genti a far cosa un ulteriore un ulteriore punturina un ulteriore punturina ve lo farò sentire intanto vi saluto ciao michela ciao simona ciao giorgio ciao adolfo anna ecco c'è anche anna angela buon pomeriggio a tutti e se siete curiosi vi chiederei di condividere di mettere un like un pollicione chi non ha seguito la pagina di farlo quindi si può seguire la pagina per rimanere aggiornati anche perché l'algoritmo algoritmo sveglia sto cercando di svegliare l'algoritmo devo far vedere una cosa simpatica ovvero come hanno fatto l'anno scorso anche quest'anno hanno avuto la faccia tosta di prendere una canzone natalizia e distruggerla distruggerla rovinarla buttarla via per andare a fare le loro canzoncine però sapete cosa però sapete cosa e quindi appena sarete collegati ho già lo schermo pronto guardate guardate come contento della sua del suo testo in mano natalizio giletti insieme a pregliasco felicissimo che non vede l'ora di cantarlo quindi attendo che sia collegato un po di gente che l'algoritmo mi permetta di far vedere quello che fanno e caro algoritmo prima di sono non si dice flora quello che sono quello che sono lo sappiamo tutti ma non si dice non si dice l'ho visto c'è chi l'ha visto giovanna dice che l'ha visto che vergogna io lo faccio rivedere volentieri per quelli che non guardano la tv perché sapete sono tanti gli italiani e le italiane che non guardano più la tv che si sono rotti talmente tanto sono talmente tanto schifati dalla televisione italiana che han deciso di non guardarla più ha fatto la scelta non guardiamo più la televisione intanto vi guardo dritto negli occhi dritto negli occhi in chi guardo giletti e pregliasco vi dirò giletti non cantano anche malissimo però il testo il testo si può questa è la domanda che pongo a tutti si può rovinare una canzone natalizia in questo modo vi sembra una cosa degna di un giornalista può farlo un conduttore televisivo e un virologo un viro star andare a rovinare anche quest'anno una canzone natalizia siete pronti se non siete convinti che il circo continua il circo continua come dice gialluca grande abruzzese sei sempre sei sempre preciso abruzzese dice il circo continua sì è un vero circo e vi farò vedere il perché guardate un attimo tanto è molto più bella lessicalmente questa canzone che non è di odio un attimo solo parole siamo stonati erano stonati ma io le do la possibilità perché siccome natale è vicino manca ormai una mesata più o meno mettetemi la base lei ha preso la sprovvista quindi la perdono eccoci tu scendi dalle stelle macino bello la quarta dose devi fare se Natale vuoi festeggiare la quarta dose devi fare se Natale vuoi festeggiare ed eccoci qua amici dove va dopo una cosa del genere Paragone attenzione non pensate male Paragone stava ridendo come dire oltre ad essere una grandissima stronzata non sapete neanche una parola figurò quindi Paragone gli ha massacrati l'ha mai impuntato è stato bravissimo Gianluigi gli ha massacrati li ha massacrati totalmente poi con questa cosa qua ha fatto proprio capire che è una pagliacciata totale una pagliacciata totale vi chiederei di condividere vi chiederei di mettere un vostro parere nei commenti per far capire a Pregliasco per far capire ai Virostar a questi conduttori di forma televisivi e forma televisivi che ovviamente non sono mai stati schierati da nessuna parte sono sempre stati super imparziali tanto che mi hanno invitato moltissime volte in puntata mi hanno fatto vedere l'altra sera come per miracolo hanno fatto ascoltare alcune mie parole ma sapete forse e forse dopo essersi resi conto che faccio più io in diretta con la gente che non molla che loro in tv forse hanno detto magari qualcosa facciamolo vedere che giusti ci porta qualche ascoltatore ma non ve lo porto non ve lo porto non pensavo che non mi invitiate in puntata però facendomi dire quello che reputo giusto dire e non quello che mi imponete di dire allora se mai mi invitassero in puntata dicendo tu puoi dire quello che ti pare io ci andrò ci andrò perché a differenza dei social in tv potrà dire quello che mi pare poi sui social tornerò a regolarmi perché ci sono degli algoritmi strani che si arrabbiano e ti spengono ma in tv non potendo spegnermi in diretta potrò dire quello che voglio detto questo commentate condividete perché anche per quest'anno è l'ennesima volta che prendono una canzone natalizia e la distruggono totalmente una cosa vergognosa lo so super vergognosa ciao a tutti e buona serata ci sentiamo più tardi perché ho due notizie che mi sono arrivate che dovrò per forza dare sicuramente una sicuramente una buona serata a tutti ciao